ciao ragazzi voglio parlarvi di una cosa molto semplice di un prodotto veramente carino semplice efficace ormai stradiffuso localizzatore bluetooth il classico localizzatore ormai gps bluetooth che può insomma farci ritrovare un oggetto un animale in caso di smarrimento o di impedimento a poterlo recuperare funziona tramite applicazione perché questo perché mi è stato spedito dalla grey star funziona con l'applicazione jazz fan volevo proporre perché ha un prezzo veramente economico mai di qualità perché troviamo su amazon anche in grande distribuzione dei localizzatori che costano poco ma poi magari hanno problemi di collegamento hanno una qualità molto molto esile sono fragili magari si rompono facilmente nel tempo hanno problemi con il segnale ce ne sono altri invece diciamo che costano leggermente più ma sono buone ecco questo è un prodotto che costerebbe di più ma è venduto a un prezzo meno ed è di qualità alta parliamo di 4 e 3 euro e 90 centesimi grande distribuzione barra amazon quando invece concorrenti di questo di questa grey star vendono prodotto a 9 10 euro diciamo un localizzatore buono costa dagli 8 99 agli 11 99 buono quelli che vanno dai 4 euro ai 6 euro solitamente sono quelli più economici che hanno appunto questi piccoli difetti poi se si ha fortuna se ci si accontenta questo invece un localizzatore che vale almeno quella fascia dai 9 ai 12 euro ma viene venduta a 3 euro e 90 e secondo me sia grande distribuzione che amazon ne vale la pena funzionamento semplicissimo scatola di scheda perché non è stata spedita quindi non ha il marchio vi faccio vedere il localizzatore molto molto semplice lo apro qui vedete qua vedete si può appendere tranquillamente qua quindi a una valigia al collarino del cane a una persona anche in tasca quindi vi comunque localizza il funzionamento è semplice funziona con una pila 20 32 quelle che si usano per i telecomandi per i cardiofrequenzimetri scusate i frequenzimetri per intenderci vedete leggero facilmente installabile ovunque qua c'è un piccolo manualetto delle istruzioni come funziona semplice dentro intanto vi danno la pila e correggo è una 20 16 non una 20 32 quando una già fornita garantirebbe l'utilizzo per quasi sei mesi barra 12 mesi se l'uso è medio quindi con un uso blando va anche dopo un anno di utilizzo con una pila quindi consuma veramente poco perché alla fine sono il segnale che va poi a rintracciare l'oggetto barra persona barra animale in cui noi applichiamo il localizzatore la pila ci viene fornita quindi insieme nei 3 90 in più ci viene fornito il gancettino vedete sì però è però c'è tutto con un prezzo poco e quindi e poi soprattutto questo tracker questo bluetooth tracker vi viene poi fornito con un manoletto di istruzioni si va a scaricare la just found quindi dovete scrivere found poi t una t in più attenzione attenzione a scrivere bene il fatto delle due t cioè found tt se non scrivete just found con le due t non trovate l'applicazione è dedicata perché praticamente questa finisce con un found e poi a due t aggiuntive è un po scritto in piccolo si è fatica leggere ma così anzi ribadisco la stupidata che ho detto found lt quindi dovete cercare l'applicazione just found lt e a questo punto troverete l'applicazione dedicata a questo e tracker questo localizzatore che poi funziona anche con applicazioni di terze parti sul play di google ce ne sono veramente tante che possono essere compatibili con questo però la just found lt è quella che poi funziona proprio con questo localizzatore ho voluto far vedere perché il prezzo economico diciamo sono le le utility le chiamo le opel i prodotti utility che io recensisco in pochi minuti costano poco ma sono utili e soprattutto quando hanno anche la qualità prezzo cerco sempre prodotti che hanno il rapporto qualità prezzo migliore ma ci deve essere anche la qualità ringrazio sempre la regina di amazon davvero l'ho segnalato e la grace la grace star davvero l'ho fornito da recensire per 4k it che poi uguale tutto ciao e grazie come sempre ciao ciao